e ciao a tutti ragazzi io sono sempre xd01 e oggi siamo al quarto episodio di pokemon smeraldo smeraldo ok pokemon smeraldo randomizer fantastico andiamo subito senza parole ci incischiamo senza niente e e e paradolesca palle e let's go eccoci qua ragazzi siamo ritornati qua fratelli lasciami andare ok aspetta per paura e non prenderti la mia merce ok dobbiamo recuperare la merce di questo aspetta che io devo annacola prima di tutto i pokemon penso perché se mi ricordo abbiamo fatto la palestra ok mi è morto parasect e mi ricordo e però vabbè noi facciamo sempre il porche mon ok vediamo se oggi catturo qualcuno di nuovo ragazzi è un po è un po sono molto curioso di questa cosa andiamo 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 allora magica città non è come sa di qua eccolo ok poi ti conosco sei un allenatore bravissimo mi ha salvato nel bosco petalo aiutami il timidro mi ha dirubato devo riprendermi il mercedekon ok andiamo allora qua c'è un allenatore vai ragazzi sconfiggiamo tutti papapero 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 ok il noise allora ragazzi il noise era quello che mi aveva fatto parasect infatti noi cambiamo e mettiamo fluffy ok perfetto mettiamo fluffy comunque ragazzi spero che vi sta piacendo questa serie lasciate nei commenti like se vi sta piacendo ovviamente spero di sì ovviamente intanto statico di fluffy paralizza il grande il noise tuono shock strepitoso e buonanotte e buonanotte ok ho letto i commenti e ha scritto speriamo di trovare charizard bubasaur magari scrivere altri commenti altri pokemon che vorremmo avere in questa serie magari magari a trovarli a trovarli ok ok oh attenzione sto statando alcuni allenatori perché volevo vedere qualcosa è selvatico però solo rock non mi piace non mi piace non mi piace ci stavo pensando ci stavo pensando però non mi piace quindi magari andiamo mettiamo un altro ok 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 attenzione pigiotte ragazzi pigiotte questo sì questo sì allora lotta paralizzante fallisce fallisce ok l'ho paralizzato vediamo un po zaino quante pozioni ho poche pozioni pokeball 21 vediamo un po 1 ok ok un po difficile vediamo ah peccato vai niente riproviamoci riproviamoci ragazzi pigiotte è buono pigiotte è buono 1 niente ragazzi niente forse devo attaccare forse devo attaccare spero che non muoia oddio oddio meno male meno male meno male forse un altro graffio ok 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 ragazzi ok no ho sbagliato sbagliato zaino pokeball let's go speriamo ragazzi speriamo non si cattura manco così ragazzi incredibile incredibile questo pokemon dai ti prego ti prego ti prego ti prego 1 2 niente non si cattura ragazzi non vuole non vuole essere dentro la pokeball questo pigiotte 1 2 3 preso ragazzi preso eccoci qua ragazzi eccoci qua allora pomoncello va bene ora andiamo subito a vedere il tipo tipo veleno ragazzi mosse azioni turbosabbia raffi che attacco rapido va bene va bene va bene tipo veleno eh ok gli torniamo al centro pokemon ragazzi ok vai lottiamo contro no quello lotta contro c2 ma niente ragazzi niente quell'altro si è spostato da un'altra parte incredibile incredibile ma vero intanto ho messo il pigiotto lì sopra incredibile guarda ora dovremmo allenare il pigiotto ragazzi comunque facciamo un bel graffio un altro graffio qua vai dovremmo allenare il pigiotto ragazzi tipo veleno comunque pigiotto eh non è male non è male non è assolutamente male ragazzi daewong pure è un bel pokemon è un bel pokemon daewong eh ma dobbiamo recuperare la merce daewong quindi tocca uccidere il timidro oh ma questo non muore ragazzi mamma mia questo daewong con questo vento gelato incredibile ok ok velocità sì 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 tanto poi se c'è un altro pokemon lo cambiamo parasette ragazzi mettiamo pigiotto ok non c'è pokemon ora mettiamo per primo pigiotto ragazzi io ve lo dico perché tocca allenarlo quindi pokemon pigiotto per primo ok oh oh ok lo devo fare la lotta in doppio ragazzi ma quello si era rigirato nel momento incredibile è già la seconda volta eccolo si rigira mentre io stavo andando su eh non voleva lottare abbiamo capito abbiamo capito ok togipi e paras oh io sono evoluzioni paras ma che ridere ragazzi va benissimo bello pigiotto raffica ok poi tuono shock a togipi vai ok raffica sempre super efficace a paras andiamo tuono shock a togipi super efficace no vabbè ragazzi 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 è una cosa incredibile non ci sto credendo ok va benissimo barbocch quello è un pokemon di merda ragazzi paras paralizzante va bene a pigiotto va benissimo intanto pigiotto livello 7 vediamo il numero di plafi ragazzi livello di plafi livello 17 che è il mio numero preferito incredibile ok metà quello paralizzante vai paras paralizza tutti ma che te frega ma che te frega paralizza proprio tutti ok paras è andato fuori con raffica va benissimo poi chi c'hai chi c'hai? electric va bene electric raffica e tuono shock vai barbocch è andato via con raffi eh con tuono shock pigiotto livello 8 ragazzi vai con raffica vai raffica ok facciamo attacco rapido e tuono shock non è effetto su electric quindi è tipo spettro una roba del genere ragazzi però comunque tre paralizzati su tre ragazzi tre paralizzati che ridere intanto pigiotto livello 9 va benissimo ragazzi torno subito al centro pokemon oddio ragazzi chi ogre selvatico cioè mentre stavo tornando oh cristo chi ogre stai scherzando ti prego ti prego mentre stavo tornando al centro pokemon raga oh cristiano ronaldo ti prego non lo uccidere no oddio vai un'altra raffica oddio ragazzi oddio chi ogre chi ogre per favore catturalo per favore dobbiamo catturalo ragazzi dobbiamo assolutamente catturalo pokeball ti prego chi ogre ti prego 1 2 cazzo riproviamoci riproviamoci raga mentre tornavo al centro pokemon nell'erba alta lì vicino voi vi faccio vedere dove stavo ho fatto un passo ragazzi ho fatto veramente un passo mamma mia raga per favore per favore ho poche pokeball per favore chi ogre no ragazzi raga usiamo la megaball speriamo speriamo niente niente ragazzi niente dopo provo un po' la primer ball dopo un po' ragazzi se no devo usare il paralizzante di parasect dopo vai vai proviamo ragazzi oddio oddio chi ogre niente raga vai riproviamo uno niente ti prego ti prego vieni dentro dai ragazzi è morto è morto è morto quidiot ho messo in campo parasect raga mo' li faccio paralizzante qua azione lo uccido ragazzi quello per forza col veleno non potevo dai ma pure ma pure confuso ragazzi paralizzalo ti prego si dai mamma mia ragazzi la cattura più incredibile se facciamo niente niente per favore vieni dentro questa pokeball magnifica no dai dai chi ogre per favore siamo già da tre minuti o cinque minuti qui ok ok proviamo a primer proviamo a primer proviamo proviamo ragazzi proviamo ti prego no ragazzi ho cinque pokeball ma poi si può ritrovare il chi ogre se no lo catturiamo così nel cilio raga che si può ritrovare vado a comprare le pokeball però è il bello mo' a ritrovarlo e quello è il bello uno niente ragazzi per favore per favore chi ogre per favore abbiamo ultime due pokeball ragazzi ultime due ultima pokeball uno niente ragazzi niente lo dobbiamo uccidere rip per piogre eppure più veloce è più veloce lui ragazzi ah perché è vero mia vero vero non ci sto credendo sono tornando qua comunque era qua era proprio qua ho fatto sto passo proprio qui era ragazzi no ora non lo trovo non lo trovo più ragazzi lo voglio spero che si può ritrovare provo a ritrovarlo ragazzi ma ho trovato lapras no voglio chi ogre oddio 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 l'ho ritrovato oddio dopo tre ore raga l'ho ritrovato micchia avevo trovato cacnea lapras electric trug soul rock pijot quattro volte tipo l'ho trovato pijot o tre volte una cosa del genere ho trovato sto pijot raga ti ogre due volte per ora soul rock tipo tre sette or dici volte mi è capitato e anche cacnea quattro volte electric tipo dici volte electric raga penso durava più tutti tutto il capitolo che che ha cercato chi ogre raga e avete visto tutti gli episodi ok 30 minuti solo per cercare chi ogre ci ho messo non sto scherzando quindi in questo percorso si può trovare chi ogre ok va benissimo spero di prenderlo ora ragazzi ho 33 pokeball mi sono comprato avevo 6.000 soldi una cosa del genere ok con un'altra azione non dovrebbe morire vero ragazzi ragazzi se muore mi incazzo se fa brutto colpo non mi ha di fare altri 20 minuti così oddio oddio va benissimo va benissimo va benissimo ora tocca catturarlo ecco le 33 pokeball ti prego ti prego ti prego ricky ti prego ricky 1 2 ok rifacciamo questa lotta incredibile di la cattura ragazzi continua a piovere ti prego ti prego ti prego ti prego fratello minchia voglio chiogre ragazzi dai zio vera dai zio vera dammi questo chiogre per favore per favore raga dopo quando mi ha ucciso i pigiot metto paraset e lo paralizzo dai almeno c'è più niente per favore per favore gioco è vero che lo vogliamo tanto bene a questo gioco ragazzi 1 2 niente usa pokeball quante pokeball abbiamo abbiamo buttato ragazzi ok niente ragazzi niente vai pokeball dopo proviamo a usare la primer niente ragazzi vai proviamo a usare la primer ragazzi per favore chiogre per favore niente ragazzi è una cosa incredibile comunque 1 2 è veramente tosto ragazzi a catturarlo ah mamma mia abbiamo altre 20 pokeball guarda che non riusciamo a catturarlo ragazzi vi fidate ok intanto pigiot è andato via ok abbiamo messo paraset paralizzato chiogre dai per favore chiogre entra nella cazzo di pokeball beh ragazzi rimane incredibile ok che è un leggendario è tutto però manco fa così sta a livello 7 si vera sta a livello 7 forse non c'entra niente non lo so però dai per favore per favore gioco per favore 1 niente è incredibile è incredibile questa cosa 18 18 pokeball abbiamo intanto non lo riesco a catturare ragazzi sicuro c'è un pisello di vita c'è ha un pisellino guardate la vita di chiogre ragazzi dai seriamente niente ragazzi è scappato cioè è morto non c'è più niente non l'ho catturato ho quasi finito un'altra volta le pokeball e va bene ragazzi andiamo avanti sarà per una prossima volta questo chiogre o non si sa vediamo che passaggio il mio pego è quando ok ragazzi sono molto triste davvero tyranni per catturare quel cazzo di chiogre manco 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 per cazzo oh minchia sidra ma prendiamo sta pokeball ma pokeball trova dentro una pokeball con quella pokeball catturiamo chiogre ragazzi può essere anche nei prossimi episodi possiamo catturarlo ma sta scherzando ragazzi ma cosa cazzo si trova qui ragazzi 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 dai giolteon non fare come chiogre mi incazzo si si ragazzi godo sto godendo ragazzi vi giuro sto godendo cazzo bella peggio orteon fai vedere fai vedere fai vedere tipo drago tipo drago ragazzi facciamo questo qua dai tu ce l'hai con me si ce l'ho con te vieni qua vieni qua vieni qua ti rompo il sederino ti rompo il sederino minchia ragazzi chiogre vorrei riprovarci vorrei riprovarci ma il video è già lunghissimo guarda qua vi giuro è lunghissimo penso che sto qua da un'ora penso non sto scherzando vieni qua vieni qua fai ok dovrebbe morire sto banetto semplicemente no ragazzi oddio oddio ragazzi ok attacco rapido attacco rapido serve sempre mamma mia eh ah madonna 421 di esperienza c'è dato madonna ok abbiamo fatto questa cosa andiamo si um non è giusto il capo di me è detto l'avoreto semplice sì sì due orti due orti fratello merci devono ragazzi easy ok muoieni in un netto che bello rivederti sano e salvo signor marino ok bene ti ringrazio di tutto cuore se bisogna non visitare non chiamandoli solo ok ok c'è un buon scopeto potremmo catturare Tiogre nel prossimo episodio potremmo riprovarci un po' più avanti ragazzi ok abbiamo parlato con lui abbiamo recuperato la mercide la megaball ok ok ci segue lui ci si chiama ok devon spa ok dobbiamo consegnare che cosa la lettera la lettera ragazzi consegna la lettera ok vai seguiamo subito fratello vai ok te la devo non senti parlare di 10 salvato ben due volte ho un po' legerti la persona mi viene di sommettere ok blu rubia lettera a rocco ragazzi si dobbiamo consegnare la lettera a rocco va bene lo faremo nel prossimo episodio un po' un po' che nab intanto ci ha dato questo va benissimo ok ti magma ti idrosi quei stronzi diciamo ok mi hai messo l'insetto la squadra va bene ed eccoci qui alla fine inizio a dire scusate se il video è lunghissimo però ti giuro quel chiocri ragazzi volevo prenderlo ma non ci sono riuscito casomai ci riproveremo più avanti nel gioco perché avevo sicuramente poche pokeball un po' di robe così e ragazzi mettete like iscrivetevi se vi è piaciuto e ci vediamo nel prossimo video ciao belli mua